buongiorno a tutti eccoci qui per un nuovo video sui pavoni ingrifatti nuovo aggiornamento per sistemare molte cose nella prigione anche successivamente e quindi consiglio a chiunque abbia preso, abbia scaricato il gioco prima del 23 maggio faccia questo aggiornamento quindi facciamo un veloce tutorial su come aggiornare il gioco anche se l'abbiamo già fatto andiamo sulla nostra cartella di The Hornis e andiamo prima di tutto a testare il gioco con il bug, voglio testare il bug che c'è nella prigione cioè che non si riesce ad andare al primo piano e ci proviamo adesso con il gioco che avete voi mi sembra o comunque mi sembra uno delle ultime giochi quando è stato scaricato proviamo per scendere bisogna andare al primo piano non è la chiave giusta teoricamente questa chiave doveva darvi la tartaruga che si trovava al terzo piano solo che non ve la dà ovviamente prima di poter parlare con la tartaruga di nuovo dopo aver parlato la prima volta quando siete usciti dalla prigione bisogna andare al quarto piano nella prima cella da un signore barbuto chi vi parlerà di Thor, Pork eccetera poi dopo potrete scendere e teoricamente tartaruga vi dovrebbe dare la chiave ma invece vi continuerà a dire la stessa frase teoricamente non dovrebbe essere così ma dovrebbe darvi la chiave ora appunto testeremo questo aggiornamento se ha messo a posto queste cose salviamo proprio qui davanti a tartaruga e prendiamo l'aggiornamento lo copiamo con control C e lo mettiamo qui, control V, nella cartella di Deornis dove avete salvato il gioco ovviamente replace ok e ora dovrebbe teoricamente essere tutto a posto proviamo subito continua ora parleremo con lui esattamente vedete ho tenuto la chiave del primo piano, buona fortuna ora invece potrete tranquillamente scendere al piano 1 eccoci qua vedete, molto semplice aggiornare il gioco ci vuole un po' di manualità ma davvero poca e molto veloce grazie a tutti quindi per oggi è tutto ci vediamo a un prossimo video